Ciao a tutti! Tutte le cose di piccole dimensioni naturali o riprodotte che siano esercitano su di me un enorme fascino. Così in questo video vedrete come approfitto di una bella giornata d'agosto sulle spiagge di grado l'isola del sole per raccogliere alcune piccolissime conchiglie. Ho preferito la costa azzurra alle altre spiagge proprio perché ricca di piccoli tesori. Non riesco proprio a resistere dal raccoglierle. È più forte di me. Le più piccole sono più le adoro. La ricerca oltre a rilassarmi mi permette di portare a casa questo prezioso bottino. Ho deciso di separare le conchigliette con la forma più arrotondata da quelle più lunghe e affusolate e dalle bivalve. Ecco qui la divisione e contenevano ancora tanta sabbia più di quanto immaginassi. Ho ancora disponibili alcune boccette di vetro in miniatura che avevo acquistato online e alla Fiera Miniatura Italia di Milano. Vado a riempirle ad una ad una, richiudo con il tappino di sughero e quando saranno tutte pronte andremo a far visita alla mia casa delle Barbie perché è lì nella loro vetrinetta che troveranno il posto. Eccole qui. Benvenuti nell'atrio della casa delle Barbie. Ed ecco la vetrinetta. Le prime due sono sistemate, la terza è sistemata sotto. Chiudiamo il tutto e chissà se la proprietaria sarà contenta. Ciao ciao, alla prossima!